attenzione è nato il governo più a destra della storia della repubblica italiana e dobbiamo dire grazie a letta alla rottura del centro sinistra se oggi abbiamo il governo guidato da giorgia meloni un governo di destra e anche i nomi dei ministeri sono un po particolari nel senso che il ministero dell'istruzione diventa dell'istruzione del merito non perché il merito non sia importante ma l'istruzione non è solo per i più meritevoli ma è per tutti l'avanzamento è per i più meritevoli quindi il principio del merito che è sacrosanto non è una cosa che deve escludere chi è più in difficoltà e chi ha più problemi è prima cosa secondo il ministero della famiglia il ministero della famiglia diventa la famiglia delle pari opportunità attenzione alle pari opportunità ma ovviamente noi dobbiamo aiutare la famiglia da un lato ma le pari opportunità devono essere per tutti non solo per le famiglie per tutti i cittadini italiani quindi attenzione ai nomi io in un caso apprezzo perché finalmente il ministero dell'ambiente torna la parola ambiente dopo la riforma della costituzione io oggi avevo chiesto esattamente questo che l'ambiente la tutela della biodiversità fossero nel titolo di un ministero dopo il disastro fatto alla transizione ecologica dal ministro uscente cingolani che è stato un ministro inesistente sull'ambiente perché noi abbiamo anche sulla transizione ecologica visto che alla fine continua a insistere sul rigassificatore a piombino invece che lavorare sulle cose serie che sono le rinnovabili in questo paese ma il ministero dell'ambiente si cambierà ministero dell'ambiente della sicurezza energetica vedremo che politiche fa ma la sicurezza energetica si assicura solo se l'italia può avere l'indipendenza energetica come sia col sole col vento con la geotermia e con l'idroelettrico l'italia non ha carbone non ha gas non ha petrolio quindi deve andare ad energie rinnovabili ma abbiamo visto quindi i nomi dei ministeri capiremo meglio anche i titoli abbiamo ovviamente la conferma di salvini alle infrastrutture le infrastrutture deve significare l'ho detto personalmente incrociando salvini quando sono andato a salutare i neo eletti parlamentari dei amici del momento 5 stelle l'ho incrociato lì ho detto guarda salvini in questo paese aprire ulteriori cantieri serve solo relativamente dovreste iniziare a chiudere i cantieri già aperti un ministro delle infrastrutture completi le strade e le ferrovie in sicilia per esempio invece di blaterare sul ponte sullo stretto non mi darà retta ma almeno diciamo le cose che ci sono quindi governo più a destra della storia d'italia grazie alla rottura voluta da letta e gli attacchi che letta ha fatto a conte e non è un governo che ha una maggioranza addirittura per cambiare la costituzione solo grazie al fatto che conte ha fatto una grande campagna elettorale ha lavorato bene e i 5 stelle hanno vinto più collegi uninominali del pd e degli suoi alleati alla camere deputati e uguali come numero al senato quindi grazie a conte se non è stato proprio un disastro ma comunque purtroppo la scelta di letta ci ha portato a un governo che è quello più a destra della storia d'italia questo è il dato io personalmente li ho visti passare tanti di governi e ho partecipato ad alcuni governi altri l'ho sostenuti gli altri l'ho avversati ho fatto una fiera opposizione ai governi berlusconi con molta durezza e con molta nettezza perché ricordo che alle infrastrutture prima di salvini c'era lunardi che voleva fare una legge obiettivo con cui si facevano le opere pubbliche andando addosso ai cittadini e non è riuscito a fare niente quindi tra i tentativi di cambiare la costituzione di affossarci la possibilità ce ne corre siamo un paese forte quindi saremo capaci di fare un'opposizione sociale civica e ovviamente anche l'opposizione parlamentare dove io confido molto oggi ho rilanciato anche gli auguri che ho fatto ad altri amici come l'ex procuratore nazionale antimafia derau o la la neoletta segretaria dell'ufficio di presidenza sportielo una bravissima napoletana quindi ci saranno tante persone che saranno in grado di fare opposizione rigorosa in parlamento e conte l'ha detto chiaramente quindi conte lavorerà su questo ovviamente dobbiamo stare attenti giustamente rosanna mi scrive il ministro del mare e del del sud altra cosa non si capisce perché il mare sta col sud il sud poteva avere un ministero autonomo ma musulmanici che vuole fare il ponte anche là ma io dico volete parlare del ponte ok ma ne possiamo parlare dopo che avete permesso che ci siano le strade le autostrade in sicilia in calabria degne di un paese civile questo è quello che serve al paese non le chiacchiere sul ponte ma soprattutto vi chiedo secondo voi quanto dura questo governo è partito sgangherato è partito con berlusconi che addirittura hanno dovuto fare una cosa scritta la meloni è andata al quirinale ha letto dopo una cosa scritta per evitare che berlusconi parlasse e parlasse a bambera quindi partono già con diciamo una situazione abbastanza surreale noi dobbiamo fare in modo che l'opposizione sia molto dura e sia capace di costruire un'alternativa domani noi a roma proprio domani mattina dalle 10 in poi faremo e lo vedete anche su in diretta sul radio radicale sul sito radio radicale faremo un convegno che si chiama verso il polo progressista con stefano fassina colore dana di petris paolo cento con la presenza del professor de masi del professor de santoli di monio vadia ed è una volontà di creare un coordinamento civico ecologista e di sinistra cioè mettere insieme le realtà che nel paese già alcuni come me da anni altri recentemente hanno deciso di votare per i cinque stelle di sostenere conte e di fare in modo domani conte sarà presente a questa assemblea a roma vengono da tutta italia e però è importante anche chi non può venire che lo vede in diretta ebbene noi vogliamo costruire un coordinamento lo faremo poi in tutte le regioni cioè in tutte le regioni vogliamo costruire un coordinamento civico ecologista di sinistra alleato con i cinque stelle e o che collabora con i cinque stelle anche per rilanciare un formazione ancora più forte progressista in questo paese che sia guidata da conte che si è guadagnato sul campo questo merito letta l'ha perso sul campo perché ha attaccato conte ha cercato di azzerare il movimento cinque stelle una cosa indecente devo dire la verità indecente una scommessa persa ma è grave che la si sia giocata perché è stata giocata sulla pelle del popolo di centro sinistra dei progressisti di questo paese perché con quella rottura letta ha regalato il governo la meloni c'è la meloni non ha fatto neanche una grande fatica infatti alla fine l'altra volta il movimento cinque stelle preso 32 per cento dei voti questa volta la meloni ha preso il 26 quindi ha avuto un buon risultato ma non un plebiscito e i partiti alleati sono crollati ha preso l'otto per cento la liga l'otto per cento forse italia quindi non è stata la grande vittoria del centro destra è stata la grande sconfitta di chi ha rotto il centro sinistra e l'ha distrutto in questo modo questo vogliamo dircelo oggi quindi abbiamo il governo più a destra della storia della repubblica abbiamo anche nei nomi ripeto istruzione merito onestamente io non so se può cambiare ancora idea la meloni ma non va bene perché l'istruzione la cosa più inclusiva che c'è deve certamente creare anche una cultura del merito ma deve aiutare tutti il concetto di istruzione è per tutti non solo per i più meritevoli poi più meritevoli devono avere dei degli avanzamenti devono andare meglio su alcune cose ma ci deve essere il diritto alla pubblica istruzione per tutti perciò è pubblica l'istruzione allora ti prego almeno evitiamo quella parola merito poi il resto si può dire imprese made in italy va benissimo sviluppo economico ovviamente è affidato solo alle imprese al made in italy probabilmente non solo ci vogliono altri settori per lo sviluppo economico ma va bene così secondo me ci sono le università che danno un contributo importante allo sviluppo economico ci sono altri temi quindi i titoli devo dire non vanno forzati i dicasteri sono i dicasteri del ministero tant'è vero che io ero perplesso fin dall'inizio sul ministero della transizione ecologica era sbagliato quel nome perché voleva dire che la transizione ecologica era un obiettivo invece era uno strumento è uno strumento la transizione ecologica il nome del ministero doveva essere mistero dell'ambiente come peraltro è scritto nella nostra costituzione da febbraio tutela dell'ambiente della biodiversità e degli ecosistemi questo è un ministero ministero dell'ambiente della sicurezza energetica boh sì ma la sicurezza energetica deve essere una delle direzioni che fa quello nel paese se no tutto potrebbe essere sanità e sicurezza sanitaria certo agricoltura e sicurezza alimentare ma adesso addirittura agricoltura si chiamerà sovranità alimentare che mi va bene perché io sono d'accordo che noi io ho sempre sostenuto anche da ministro dell'agricoltura che bisognava aumentare la produzione italiana nel senso di dare la possibilità ai nostri agricoltori di mettere a frutto delle terre abbandonate quindi sono favorevole ma che il titolo sia sovranità sembra quel vezzo per parlare di sovranismo senza dirlo e ripeto io sono contro i sovranismi stupidi ma per la sovranità giusta la sovranità che appartiene al popolo è scritta nella costituzione italiana eh Fassina ha un'associazione Fassina è di sinistra un'associazione si chiama patria e costituzione perché non è che la patria è monopolio della destra è quel eh come dire trasformare la patria in una specie quindi lavoriamo lavoriamo con molta nettezza a fare opposizione a un governo troppo di destra facciamo in modo che possa fare cose buone e io spero che alcuni ministri facciano cose buone ecco personalmente ho grande stima del prefetto piante dosi che è diventato ministro dell'interno penso una persona di grande rigore di grande equilibrio considero bravo quello che va a fare il ministro dello sport e dei giovani perché è persona che ha lavorato bene al credito sportivo quindi ci sono persone poi guarderò meglio la lista e che possono fare io Grazie a tutti. Grazie a tutti.